Ultimato l'ennesimo intervento alla condotta di fiume freddo, questa volta il cedimento è stato nella zona di Forza d'Agro e è giunto davvero il momento di pensare concretamente alla manutenzione del vecchio acquedotto. Campanelli di allarme frequenti che richiedono ora lavori strutturali per evitare nuove possibili crisi idriche che restano in agguado, considerato che la tubatura che porta l'acqua a Messina attraversa un territorio messo in ginocchio dal dissesto idrogeologico. Problema che abbiamo imparato a conoscere da quel 24 ottobre dal caso Calatabiano che ha segnato l'inizio di un'emergenza senza precedenti. I vertici AMAM hanno incontrato i responsabili della regionale della protezione civile Calogero Foti, l'azienda meridionale Acqua e ha la responsabilità della manutenzione della condotta ma ad altri enti spetta il compito di mettere in sicurezza il territorio. Per la frana di Calatabiano il governo nazionale ha dichiarato lo stato di emergenza e stanziato 2 milioni di euro. Intanto i messinesi, dopo la preoccupazione comprensibile delle scorse ore, tirano un sospiro di sollievo. Il guasto a forza d'agro è stato riparato nella giornata di ieri, riattivato il flusso di acqua in arrivo del fiume freddo, l'erogazione in città è ripresa. Tanti però disagi ancora oggi con quartieri a secco nelle prime ore del mattino, come Giostra ed alcune zone del centro città. Entro domani ritorno alla normalità con l'erogazione in tutto il territorio. Questo è quanto ha assicurato il direttore generale dell'AMAM Luigi Larosa.